Tumore al pancreas. In Italia colpisce ogni anno circa 13.700 persone, la maggior parte fra i 60 e gli 80 anni. Aggressivo è quasi sempre letale perché spesso viene diagnosticato in fase avanzata. Le aspettative di vita aumentano se si riesce ad avere una diagnosi precoce, per cui è bene non trascurare alcuni campanelli d'allarme. È un nemico insidioso perché in fase precoce non dà sintomi particolari e i segnali più evidenti compaiono ormai quando si è diffuso. Per questo noi raccomandiamo la prevenzione che è fondamentale e quindi di rivolgersi sempre a un medico esperto.